Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video non ho fatto i video vi dimenticate perché è che sono andato non c'avevo tempo perché me l'ho dimenticato di voi cioè, non è che me l'ho proprio dimenticato, ma mi sono ricordato e oggi vi farò vedere la mia Nintendo Switch guardate vi dispiace ragazzi se prendo gli occhiali perché non ci vedo tanto bene eccoli qui, me li indosso sembro un altro youtuber ma vi sicuro che sono non sono un altro youtuber ma sono Davide quindi lo sapete già iscrivetevi al canale attivando la campanellina mettendo un bel like e si può anche accendere guardate guardate si può anche accendere qua se abbassiamo un po' se abbassiamo un po' aspetta vedete ragazzi sono palermo era fedele al colpo però questo nella sua testa significava solo una cosa perché il colpo proseguisse doveva tornare ok lo vedete meglio youtube youtube la mia password è 3 volte A vedete qua vedete qui dice 3 volte A quindi 1,2,3 fatto e sono varie gioche prima youtube poi minecraft poi pacman e fitness fitness non lo uso io ma lo usa mia madre quindi non so quindi lasciate potete anche entrare nelle possiamo giocare a minecraft va bene ragazzi allora aspettate che mi giro olè andiamo su minecraft minecraft chiudi guardate aspettate chiudi ma Luigi che è Mario veramente spostano so che non riesco mojang stato ramuntando il mondo perché cosa si è verificato un errore di comunicazione con il server di prova più tardi scusate era un bug del server aspettate non possiamo giocare mi dispiace ma noi giocheremo sulla nintendo però ce l'ho e costava ben 500 euro ma sto scivolando quindi addio e noi ci vediamo in un prossimo video di davidus